Dopo la partenza in totale sordina e in tutta fretta di Sant'Anna da Bassano, al Museo Civico, ve ne abbiamo dato conto, è arrivata la da Pontiana Sant'Orsola, direttamente dal santuario della Madonna dell'Acqua di Mussolente. L'opera dovrebbe coprire una lacuna lasciata dalla sottrazione della pala dalla città di Bassano del Grappa, terra del grande Jacopo, artista del 500 Veneto. Un affronto fatto a tutta la città da sindaca Pavan, allora anche assessora alla cultura, ed ex direttrice del Museo Chiara Casarin, per cui i bassanesi non intendono arrendersi. Ma ora, oltre al danno, la beffa. Nonostante sia stata cambiata la referente alla cultura di Bassano, oggi posto coperto dalla marosticense Giovannella Cabion, la cultura fa acqua, ancora più acqua di quella che passa sotto il Ponte Vecchio. Perché? Beh, guardate voi. Il cartellino identificativo della tela dice che si tratta di Sant'Orsola tra i santi Valentino e Giuseppe. Leggete tutti, giusto? Giuseppe. In un primo momento chi scrive è andata subito a controllare su internet la corretta di Dascalia dell'Opera del Dal Ponte, perché magari in passato le era sfuggito, quella era la dicitura corretta. No, no, invece no, è un errore, un refuso, quello che volete, manca una U, la U di Giuseppe. Ma niente paura, signore e signori, a Bassano la cultura va un tanto al chilo, una lettera in più o in meno, che vuoi che sia. Fa rabbia che vengano fatti errori simili, una piccolezza che in realtà tanto piccolezza non è. Vuoi non dare una controllata prima di affiggere un cartellino che va a identificare un'opera così importante sotto tutti i punti di vista, perché Sant'Orsola dovrebbe avere il compito, assai arduo, di sostituire l'insostituibile Sant'Anna. Che possiamo dire? Bel biglietto da visita per la nuova assessora alla cultura di Bassano. Ma aspettate un attimo. Vuoi che forse stia cercando di dare una mano alla sua amica sindaca per risparmiare soldi dopo la svista che ha portato alla perdita del finanziamento di Cariverona da oltre 5 milioni per il polo museale Santa Chiara?